Forza ragazzi, c'è che toldo, c'è che toldone, 49-47, attenzione, forza ragazzi, parte la rincorsa di Emre, palla dentro, mischia, attenzione, gol, 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 gol. Ha segnato toldone, non lo so chi ha segnato, uno a uno, e allora? E allora? Non lo so chi ha segnato, ma chi se ne frega? Grazie. 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 Grazie.